Per il duplicato del permesso di soggiorno Si paga il contributo in relazione al periodo residuo di validità Si paga anche il contributo per i familiari maggiorenni dei rifugiati Nessun rimborso in caso di mancato rilascio o rinuovo del permesso di soggiorno Le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo sono tassative E non è possibile alcuna interpretazione che le aumenti